L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Così non è più possibile andare avanti. Il grido di allarme lanciato nelle piazze da agricoltori ed allevatori contro il caro Bollette a rischio il loro futuro. Fiumi di cocaina sul litorale romano, traffico gestito dai clan calabresi di Santa Cristina da Spromonte e Guardavalle, mazzi operazioni con decine di arresti. Il Partito Democratico discute di trasporti ed acqua pubblica chiedendo risposte alla regione, intanto chiuto incontra Enac per gli aeroporti calabresi. Secondo la Fondazione Ginde in Calabria diminuiscono i contagi rispetto alla scorsa settimana ancora sopra soglia i tassi di occupazione dei posti letto. Gara senza storia, quella dell'uscita di ieri. Il Crotone dopo il K.O. nel derby non reagisce contro il Brescia. Ragazzi di Inzaghi, basta solo un rigore trasformato da tramonti. E benvenuti dunque alla prima edizione del nostro telegiornale. Siete sul canale 18 di Esperia TV. Il caro Energie sta mettendo a rischio il futuro di tante aziende agricole e zootecniche. Ecco perché oggi sono scesi in piazza a protestare. Hanno manifestato anche in Calabria, come in tante altre città italiane, gli allevatori e gli agricoltori contro il caro energia. Aumenti che comportano rischi serissimi per l'economia di un comparto strategico che oggi mette a rischio il futuro di molte aziende. Le immagini si riferiscono all'iniziativa tenutasi a Catanzaro, promossa da Coldiretti. Una situazione drammatica per il settore zootecnico. Gli allevatori sono qui per affermare che così non può andare avanti. Il costo delle materie prime, dei concimi, di tutto l'aspetto energetico, dal gasolio all'energia elettrica, è davvero drammatico. E soprattutto perché questo viene scaricato solo sulle aziende zootecniche che vendono sotto costo. E quindi oggi siamo in piazza per dire no alle speculazioni sul prezzo di produzione degli allevamenti. Qual è la situazione che state vivendo e a cosa andrà incontro la vostra azienda qualora queste condizioni dovessero perdurare? Siamo in un periodo drammatico. La situazione è veramente una delle più brutte che abbiamo vissuto dai tempi che è nata l'azienda. Ahimè, un quintale di concentrato ha avuto un rincaro del 40-50%, il gasolio di più. Quindi siamo destinati al collasso. Se non ci saranno delle misure che metteranno in grado alle aziende di fare qualcosa, di continuare a lavorare con la stessa passione, mettendo l'impegno ogni giorno, non abbiamo più vita. L'Andrangheta aveva praticamente colonizzato il litorale romano per lo spaccio di cocaina e quanto emerge dall'operazione che ha portato all'orresto di 65 persone accusate anche di associazione a delinquere di stampo mafioso. Per gli inquirenti a capo della struttura criminale c'è Giacomo Madaffari dell'Andrina di Santa Cristina da Spormonte. Attraverso l'importazione di cocaina in larga scala dal Sud America, i clan di Andrangheta hanno colonizzato il litorale romano, riuscendo ad infiltrarsi anche nelle amministrazioni locali e puntando al business dei rifiuti attraverso società gestite da prestanomi. E quanto emerge dall'indagine della distrettuale di Roma, che ha portato all'arresto di 65 persone accusate anche di associazione a delinquere di stampo mafioso. A capo della struttura criminale, un distaccamento dell'Andrina di Santa Cristina da Spromonte, Giacomo Madaffari e altri soggetti appartenenti a storiche famiglie di Andrangheta, originarie di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Un secondo clan era guidato da Bruno Gallace. Gli inquirenti hanno accertato che nella primavera del 2018, tramite un narcotrafficante colombiano, furono importati e immessi nel mercato del territorio del litorale 258 chilogrammi di cocaina. La sostanza venne nascosta nel carbone e poi estratta all'interno di un laboratorio allestito a sud della capitale. Parte della droga, circa 15 chili, è stata trovata in una valigia che era stata nascosta nell'abitazione della sorella di uno degli appartenenti al gruppo criminale. Tra gli obiettivi dell'Andrina ha anche quello di importare da Panama circa 500 chili di cocaina nascosti a bordo di un veliero che in origine veniva utilizzato per regate transoceaniche. L'operazione è però saltata quando gli arrestati sono venuti a conoscenza di indagini proprio nei loro confronti. L'operazione della polizia alla Mezzia Terme è stata smantellata, un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Sei le persone finite in carcere, uno dai domiciliari, mentre per altre 15 persone è stato disposto l'obbligo di dimora. Sentiamo Antonio Capria. C'è anche un albergo di Madonna di Campiglio in Trentino, tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere finalizzata all'autoriciclaggio. Le fiamme gialle coordinate dalla Procura di la Mezzia Terme hanno messo i sigilli a società e beni per il valore di 5 milioni e 200 mila euro. Tra questi anche uno stabilimento industriale alla Mezzia Terme e un'imbarcazione del valore di 300 mila euro ai domiciliari 4 persone. Si tratta dell'imprenditore lametino Claudio Arpaia, ex presidente della Vigor Lamezzia, della moglie Anna Maria del Gaudio e di due consulenti operanti nel nord Italia, Mauro Armani e Armon Rossi. Sono in corso perquisizione in Trentino, Lombardia, Calabria e Campania. L'operazione della Guardia di Finanza, denominata Boccaccio, è scaturita a seguito dell'approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di una sospetta operazione di volontari disclo surposta in essere dall'imprenditore Lametino, il quale avrebbe fatto rientrare in Italia 500 mila euro investiti in banche maltesi per mezzo di una società con sede nelle Isole Vergini. Le indagini svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro hanno consentito di accertare che la provvista derivasse non da un'eredità, ma da pregressi reati fiscali. I riscontri hanno consentito di ricostruire l'attività dell'imprenditore, della moglie e dei due consulenti. È emerso che attraverso una serie di operazioni finanziarie sarebbe stata riciclata la somma di oltre un milione di euro provento di evasione fiscale. Per nascondere l'origine illecita del denaro sarebbero state costituite società di comodo in Svizzera dove allocare parte dei proventi dell'evasione per poi procedere al loro reimpiego nel mercato legale attraverso operazioni nel settore immobiliare, dile turistico, del noleggio di natanti. In particolare è stato ricostruito un importante investimento immobiliare consistito nell'acquisto di un albergo a Madonna di Campiglio per 1.200.000 euro di cui 300.000 euro da corrispondere in contanti e in nero. Una parte del denaro corrente per l'operazione è stata trasferita in contanti verso il nord Italia come documentato nel corso delle indagini attraverso un simulato controllo della normativa anti-Covid. Il GIP ha inoltre disposto il sequestro di un milione e mezzo di euro. Indagini in corso nella Locride dopo il ritrovamento di armi da guerra gli inquirenti devono capire se i due lanciarazzi fanno parte dell'arsenale delle cosche o se dovevano essere utilizzati contro qualche obiettivo. I carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori Calabria hanno trovato e sequestrato nella Locride due lanciarazzi anticarro e il relativo munizionamento. Le armi da guerra clandestine erano nascoste tra le rocce e sono state individuate nel corso di un servizio di rastrellamento in un'area rurale pre-astromontana compresa tra i comuni di Caraffa del Bianco e Bruzzano Zeffirio. In particolare si tratta di due lanciarazzi M80 Zolia perfettamente funzionanti caricati di munizionamento da 64 mm ed erano in un terreno incolto e di libero accesso. A insospettire i militari è stato un cumulo di sassi coperto da fitta vegetazione situato alle basi di un rudere. Sollevate le prime pietre ha fiorato un tubo in PVC di colore arancione al cui interno c'erano le due armi da guerra. Sul posto sono intervenuti anche i reparti specializzati del comando provinciale di Reggio Calabria. I carabinieri artificieri hanno messo in sicurezza il sito eseguendo successivamente la procedura di distruzione dei due razzi tramite brillamento. Subito dopo la sezione investigazioni scientifiche ha effettuato accertamenti tecnici sul luogo del rinvenimento per cercare di risalire a chi avesse la disponibilità delle armi. Indagini sono in corso per capire se i due lanciarazzi fanno parte dell'arsenale delle cosche della Locride o se si trovassero in quel terreno invece perché qualcuno aveva il progetto di utilizzarli contro qualche obiettivo. Sono state arrestate poste ai domiciliari dai carabinieri tre delle quattro persone che nella serata di ieri hanno aggredito all'interno del municipio di Dasà il sindaco del piccolo comune del Vibonese Raffaele Scaturchio. Alla quarta non è stata possibile notificare il provvedimento in quanto irreperibile. Gli indagati sono stati fermati subito dopo il fatto ad Acquaro nella piazza antistante alla sede del palazzo municipale dove gli stessi a quanto si è potuto apprendere si sarebbero diretti per scagliarsi anche contro il sindaco Giuseppe Barillaro. Alla base dell'aggressione per entrambi gli amministratori locali sarebbe stata quella di aver espresso solidarietà nei confronti dei raccabinieri della stazione di Arena a seguito di un fatto avvenuto nel mese di settembre scorso ad opera di due soggetti che hanno fatto parte della spedizione punitiva uno dei quali affetto da Covid. Uno dei quattro soggetti inoltre risulta essere già posto agli arresti domiciliari per via di altri reati e di conseguenza gli è stata contestata anche l'evasione. Cambiamo argomento perché il PD calabrese nel corso di un'iniziativa alla mezzia terme ha discusso di due asset importanti per la Calabria il trasporto aereo e l'acqua pubblica sono stati chiesti impegni precisi alla Regione ed una discussione in Consiglio regionale. Da parte del Presidente della Regione Occhiuto c'è un attendismo che rischia di provocare danni seri e ingenti. Ne è convinto Raffaele Mammoliti consigliere regionale del Partito Democratico. Il tema è quello legato ai due degli asset strategici e cruciali per il futuro della Regione ovvero Sacal e Sorical al primo posto dell'agenda politica del nuovo corso del Partito Calabrese targato Nicola Irto in prima fila all'incontro organizzato alla mezzia terme e che ha visto la presenza anche dell'altro consigliere regionale Ernesto Alecci. Come gruppo agiremo in maniera tale che sia l'azione politica sia l'azione legislativa possa essere calibrata per definire al meglio queste due problematiche che sono molto importanti per la vita della nostra Regione. Se la Regione non riprende la maggioranza delle azioni della Sacale l'Ena che già toglierà diciamo la gestione degli scali alla Sacale questo è un dato e noi non possiamo permetterci questo e per questa ragione noi chiediamo che la trattativa in atto del Presidente della Regione si possa concludere prima possibile per avere una prospettiva di pianificazione del sistema repartuale calabrese. Per il numero uno del Partito Democratico calabrese Nicola Irto la discussione va portata sicuramente in Consiglio regionale. Noi ancora siamo qui a capire chi deve fare che cosa quindi noi chiediamo la chiarezza chiediamo che ci sia un intervento forte da parte del Governo regionale e chiediamo che questo dibattito si possa fare in Consiglio regionale per questo noi attraverso questo incontro con le parti sociali questo è il primo ne faremo altri noi arriveremo a fare anche una proposta nostra del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Su queste cose non ci si può indietreggiare non si può pensare che si affrontano con gli spot sono questioni serie una riguarda la governance dell'acqua pubblica il rapporto che bisogna ridisegnare e costruire tra regione e comuni e soprattutto il tema della SACAL che è vitale non solo per il turismo ma per l'accessibilità e per potersi muovere dalla nostra regione. E sulla vicenda dei rapporti calabresi il Presidente Occhiuto è volato a Roma ed ha incontrato il Presidente di ENAC. Incontro definito proficuo tra il Governatore della Calabria e il Presidente dell'ENAC sugli aeroporti calabresi di La Mezzia Terme Reggio Calabria e Crotone potrebbero esserci novità a partire dalle prossime settimane. Roberto Occhiuto si è detto fiducioso del fatto che la compagnia ITA non ridurrà il traffico aereo sullo scalo di Reggio Calabria. ITA inizialmente aveva annunciato che avrebbe sospeso la tratta su Milano ma la decisione sarà cancellata e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altre novità. Sono appena uscito dalla sede dell'ENAC dove ho fatto un utilissimo proficuo incontro col Presidente di ENAC mi sono occupato degli aeroporti calabresi non solo dell'aeroporto di La Mezzia ma anche di quello di Reggio di Crotone ci saranno grandi novità a partire dalle prossime settimane intanto sono fiducioso nel fatto che ITA non ridurrà il traffico aereo dall'aeroporto di Reggio come sapete aveva già annunciato che avrebbe sospeso la tratta fino a Milano credo che questa cosa riusciremo ad evitarla. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni altre novità sugli scali aeroportuali della Calabria. In Calabria nel settimana che va dal 9 al 15 febbraio si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti ma si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi meno 7,6% rispetto alla settimana precedente quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Si mantengono sopra la soglia di saturazione le occupazioni dei posti letto da parte dei pazienti in area Covid-19 medica 31,4% e in terapia intensiva 12,9%. Dalla elaborazione dei dati effettuata dalla Fondazione si rileva che la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 78,3% a fronte di una media nazionale che è dell'82,4%. Ed ora a Roma dove il Comune sta lavorando al riordino delle occupazioni del suolo pubblico una scelta che potrebbe essere presa ad esempio da altre città. Il Comune di Roma lavora al riordino delle occupazioni di suolo pubblico con l'obiettivo di accompagnare il passaggio dalla fase attuale nella quale permangono le misure straordinarie adottate durante la pandemia al graduale ritorno alla normalità dopo la fine dello stato di emergenza il prossimo 31 di marzo. Tra i temi principali affrontati nell'incontro tra gli assessorati competenti e la sovrintendenza capitolina il bilanciamento tra gli aspetti economici e il decoro in particolare nelle aree di pregio dove i tavolini all'aperto incidono in percentuale maggiore. L'obiettivo è aggiornare il codice degli arredi all'insegna dell'omogenità stilistica per evitare la cozzaglia di modelli e materiali di formi che stona con la scenografia dei luoghi come avviene a Parigi con tavoli sedie pedane ombrelloni e fioriere uniformi a seconda del tipo di piazza o strada per evitare gli allestimenti obrobriosi che a volte capita di vedere. Dopo tanti anni è il momento di rimettere mano al catalogo visto che anche i materiali e il design si sono evoluti. Un biglietto da visita estetico memore della Roma beltroniana da spendere anche in chiave turistica nella prospettiva di una ripartenza dei flussi dall'estero dopo il crollo vertiginoso di presenze meno 80% negli ultimi due anni. Tra i punti fermi dell'incontro il ripristino del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Stanno dando il loro contributo ad esempio nella vigilanza davanti alle scuole. Stiamo parlando dei cosiddetti nonnini vigili di Crotone. Alessandra, Antonio e Francesco sono i primi tre nomi vigile che nella sala consigliare del comune di Crotone hanno ricevuto l'investitura ufficiale per il meritorio ruolo che svolgono a favore della comunità cittadina. Alessandra Perziano, Antonio Scicchitano e Francesco Riganello infatti dopo aver aderito all'invito dell'amministrazione hanno svolto un periodo di formazione presso il comando di polizia locale curato da Antonio Federico e sono pronti a svolgere attività di volontariato a supporto dello stesso comando come ad esempio la vigilanza davanti alle scuole cittadine negli orari di entrata e di uscita. Ad ufficializzare questa innovativa figura sono intervenuti il sindaco Vincenzo Voce l'assessore Gianni Pitingolo il comandante della polizia locale Francesco Iorno il presidente della commissione consigliare cultura Fabrizio Meo e la consigliera comunale Antonella Passalacqua. Proprio su impulso di quest'ultima la commissione ha proposto l'istituzione della figura del nonno vigile iniziativa condivisa dall'amministrazione che ha emesso l'avviso pubblico destinato a coinvolgere i cittadini nella fascia di età tra i 55 e i 75 anni in attività di volontariato a supporto della polizia locale. Noi nonni ci mettiamo a disposizione a servizio dei nostri bambini dei nostri ragazzi per la loro sicurezza è un'emozione è un'emozione quando ti salutano e ti ringraziano con il loro sorriso e questa è una grande emozione. Grazie. Il volontariato fa piacere sempre poi quando ci sono delle categorie di persone che ancora che sono andate in quiescenza ma ancora possono dare tanto alla società alla nostra cittadina e farlo nei confronti di utenti deboli come i nostri ragazzi i nostri figli che vanno a scuola questo è un esempio bellissimo di interscambio fra generazioni. Io mi auguro che veramente questa idea meravigliosa che in altre città viene già praticata da molti anni possa incrementarsi sempre di più nel prossimo futuro in modo da poter coprire tutte le scuole. Contro lo spopolamento dei piccoli comuni calabresi Morano Calabro riceve un finanziamento di 175 mila euro vediamo di cosa si tratta. Oltre 175 mila euro del fondo sostegno ai comuni marginali per contrastare lo spopolamento assegnati a Morano Calabro uno dei borghi più belli d'Italia a bandiera arancione le risorse potranno essere impiegate per la realizzazione di tre diverse tipologie di interventi fra le quali l'adeguamento di mobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente da concedere in accomodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche con bando pubblico finalizzato all'apertura di esercizi commerciali artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di iniziatività la concessione di contributi da destinare all'avvio di attività commerciali artigianali e agricole a coloro i quali trasferiscano a Morano la propria residenza e dimora principale nel limite massimo di 5 mila euro a titolo di concorso spese per acquisto o ristrutturazione immobile da rendere appunto abitazione abituale del beneficiario insomma una speranza per frenare la pericolosa tendenza all'abbandono e alla fuga verso aree più ricche tendenza che negli ultimi decenni ha fortemente penalizzato soprattutto i piccoli agglomerati urbani lo sanno bene il sindaco Nicolo De Bartolo e l'assessore Maria Grazia Verbicaro entrambi impegnati insieme all'intera squadra di governo nella ricerca di iniziative rivolte a migliorare la vivibilità del borgo e a riscoprire il gusto di riabitare il centro storico sappiamo affermano i due amministratori che l'ampiezza del problema è tale da non potersi risolvere con singoli interventi ma che invece occorre proporre un'idea di sviluppo nuova basata sul recupero delle radici e sulla valorizzazione e promozione della nostra cultura non basta drenare nel sistema isolate iniezioni di liquidità è certamente utile per dare respiro a un'economia in affanno ma non produce effetti virtuosi strutturali e duratori riteniamo comunque sia questa un'opportunità da non sprecare e che auspichiamo venga accolta dai nostri giovani ai quali si offre l'occasione di fare la loro parte nel processo di rinascita complessiva del nostro meraviglioso borgo risate a scena aperta invece a Caulonia dove è andato in scena lo spettacolo teatrale dal titolo Il Test una divederte commedia diretta da Roberto Ciuffoli vediamo io pur di averti ti avrei cantato in sequenza bella ciao l'internazionale bandiera rossa mi sarei messo un foggio ma gli interlimani gli interlimani tutto un concerto per due ore di interia tu tu parli così siete due credini quello che vi voglio dire io proprio non posso accettare denaro con l'esilarante e graffiante commedia Il Test è partita a Caulonia la nuova stagione teatrale dell'auditorio Casa della Pace Angelo Frammartino grazie a Dama Calabria e al Comune Il Test che continua a sbancare i botteghini spagnoli e che in Italia grazie alla direzione e regia di Roberto Ciuffoli raccoglie il gradimento del pubblico interpreti insieme a Ciuffoli Benedicta Boccoli Simone Colombari e Sara Biacchi la commedia ruota intorno a 4S soldi sentimenti sesso e successo un crescendo comico e drammatico che porta alla luce il non detto le aspirazioni le colpe le speranze dei quattro protagonisti siamo riusciti siamo riusciti a mettere su uno spettacolo che alla fine possiamo dire proprio con un po' pieni d'orgoglio insomma è venuto è venuto un bel meccanismo un bel gioiellino raccontiamolo ma è uno di quei spettacoli capito? la gente quando esce da teatro continua a farsi delle domande quando succede una cosa del genere io credo che il teatro ha fatto centro parte tutto da un gioco da un test che chiede dice ma tu preferiresti 100.000 euro subito oppure un milione fra dieci anni ecco su questa domanda così comincia tutta una serie di avvenimenti molto divertenti fra queste due coppie che animano la la commedia per poi arrivare a mostrare invece anche un po' l'aspetto quello più oscuro quello nero dei quattro personaggi speriamo di farci tornare il più presto possibile per più tempo possibile perché è una terra che ci piace perché è una terra che ha bisogno e ha voglia di essere attraversata perché non c'è niente da scoprire saremo certi i primi assolutamente no vogliamo dire c'è la cosa che vedendoci viene anche evidente noi abbiamo posato come modelli per i bronzi di Riace a parte il fatto che ci vedono e si capisce che il fisico è quello siamo noi siamo noi i modelli dei bronzi sì seconda sconfitta di fila per il Crotone parliamo di sport adesso che dopo la gara persa al granillo cade anche in casa ad opera del Brescia un rigore di Tramoni decide la sfida ma la classifica del rosso-blu continua ad essere terribilmente complicata oggi non mi è piaciuto prima così di tutto secondo me ma al di là di tutto quello che hai detto l'atteggiamento di squadra perché se siamo così non si fa da nessuna parte la disamina di Modesto a fine gara è impietosa nei confronti di una prestazione nella quale il Crotone non è mai stato nelle condizioni di mettere in pericolo alla porta del Brescia che ha vinto con un rigore di Tramoni ma la gara poteva finire anche con un altro risultato solo tre cambi per Modesto rispetto al Reggio addirittura sei per Inzaghi con un tridente d'attacco decisamente pericoloso lo sbilancio tecnico che si avverte sul terreno di gioco è palese i Lombardi in pratica controllano la gara dal primo al novantesimo rischiando davvero poco Nicoletti in campo dall'inizio delude le aspettative ma anche la difesa non riesce a scrollarsi antiche paure come in occasione del rigore il braccio di Cuome cale otto e dagli undici metri Tramoni non si intenerisce e il trentacinquesimo di tempo per rimediare ce n'è nel secondo tempo dentro sale Mulattieri ma Inzaghi è bravo ad agginare un crotone che ci mette del suo perché non combatte perde tutti i duelli e permette al Brescia di organizzare il gioco con un controllo della palla che mette in difficoltà la squadra rosso-blu Saro deve fermare così una zuccata di proia Mulattieri lontanissimo dalla sua forma migliore le palle inattive sono sempre un pericolo per la difesa calabrese il tempo scorre diventa nemico del crotone nel finale Saro dice no a Bertagnole prima del triplice fischio Inzaghi festeggia la centesima vittoria in panchina Cellino può stare tranquillo il compleanno di molesti invece è amaro ma sarà ancora più amaro il proseguo della stagione se il crotone continuerà ad offrire prestazioni del genere Nella Superlega di Volley in aspettata sconfitta della Tonno Callipo in casa contro il Cisterna i calabresi si sono resi al quinto set per 16 a 14 uno stop che arriva anche che arriva scusate dopo la doppia vittoria contro Taranto e Verona ma che tiene la formazione giallorossa ancora al penultimo posto in classifica prossimo impegno per la Tonno Callipo dopodomani a Monza ed ora la linea a trebimeteo.com per le previsioni del tempo Amici di Trebimeteo ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni per venerdì 18 gennaio Sull'Europa prevagono condizioni anticicloniche sul comparto centro-meridionale dunque l'anticiclone protegge anche l'Italia mentre vedete le perturbazioni atlantiche scorrono rapide sull'Europa settentrionale risultando anche particolarmente intense con tempeste di vento tra la Gran Bretagna e le coste del mare del nord per quanto riguarda dunque la nostra penisola non ci aspettiamo grande nuvolosità soltanto ancora un po' di addensamenti irregolari sul versante terrenico qualche nebbia o nube bassa tra l'alto Adriatico e la Vapadana orientale mentre in serata aumento nelle nubie al nord ovest e soprattutto sulla Liguria vediamo dunque la previsione ci aspetta una giornata ancora in prevalenza soleggiata quasi ovunque qualche annuvolamento a carattere sparso sul versante terrenico qualche banco di nebbia vedete possibile in Vapadana al mattino e poi in Liguria maggiore nuvolosità per l'arrivo di aria più umida che porterà anche qualche goccia di pioggia tra Savonese e Genovese le temperature rimangono piuttosto mite addirittura saranno in aumento al centro sud dove si potranno anche superare i 15-16 gradi su gran parte delle località con punte anche superiori ai 20 gradi in Sardegna con questo è tutto per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo ed è tutto anche per questa edizione con il meteo si conclude l'appuntamento con l'informazione regionale di Esperia TV grazie per essere rimasti con noi a presto ah non dimenticate tra pochissimi minuti la diretta con il nostro Luigi Saporito Smart Sport tanti argomenti tanti ospiti tanti gli argomenti da trattare arrivederci